La più grande saga di tutti i tempi è in arrivo sul grande schermo in uno spettacolare 3D. Vivi la magia, ti riferisci alla profezia di colui che porterà equilibrio nella forza. L'emozione, pensi che sia questo bambino? La forza è singolarmente possente in lui. L'avventura, finalmente potremo rivelarci rigeti. Finalmente potremo vendicarci. Povero me! A febbraio, vivi Star Wars come mai prima d'ora. Wow! Aspetta un attimo! Fuoco! Ferminateli subito, tutti quanti. Star Wars Episodio 1. La minaccia fantasma 3D. Solo al cinema. Febbraio 2012. Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie per la visione!